OpenCart è uno dei prodotti più giovani del mercato, non richiede grandi competenze informatiche, è una soluzione e-commerce robusta e orientata ai motori di ricerca. OpenCart Oltre 20 gateway di pagamento. Inoltre, puoi migliorare le funzionalità del tuo negozio con l'aggiunta di estensioni dalla Extension Directory. Vantaggi, estrema semplicità di installazione. Svantaggi, poco estendibile, poco orientato a realtà di medio-grandi dimensioni.